Almeno 19 morti e oltre 100 feriti in un incidente ferroviario in Egitto. Un treno militare ha deragliato nel sobborgo di Badrashin, a sud del Cairo. Sul convoglio si trovava un numero imprecisato di reclute diretti in una base militare. Le autorità egiziane non hanno fornito alcuna indicazione riguardo l'identità o l'età delle vittime, specificando soltanto il nome degli ospedali in cui sono state trasportate le salme. L'insicurezza delle vie di comunicazione è un problema cronico in Egitto. In novembre 50 persone, la maggior parte bambini, sono morte nello scontro tra un treno ed uno scuolabus.